Una grande compassione e attenzione verso il prossimo, già è un uomo generoso, c'è l'episodio di Opositano, famoso, una dilema, ma sarà sempre in lotta, come dire, col male in assoluto, ma cercando di vedere se riusciva poi a ricarare uno spirale di luce e di bene. E questo, appunto, sempre pronto a loro dice, c'è però quel raggio di luce che in qualche modo auspica che ci possa essere una via d'uscita, una speranza. Quindi il percorso di Comido è un percorso molto, molto forte. C'è questa fase drammatica che inciderà per sempre. C'è il suo viaggiare continuo, perché è molto in Italia, e sceglie di morire in Italia, ma anche a Poga, anche il stato di Calcutta, Bombay, Pecotti, in passato, ci fanno pensare a madre Teresa di Calcutta, cioè, voglio dire,